allora eccoci già qua questa qui allora a me piace un sacco però non so cosa prenderci però si si la sella e poi ci riesco prendo anche le treccine niente prendiamola bellissima c'è guardate la dressage troppo bella la prendo si impresa ora vado a vedere vediamo ma stai stai mamma mia bellissima ho pochissime cose però comunque cercherò di prenderne di prenderne di più e niente raga io continuo a fare gare così potrò prendere le altre cose vorremmo prendere queste qua e niente ciao se ci riesco anche questa sottosalla qua mi piace un sacco sembrava bellissima e nada ciao eccoci ragazzi se non energy e allora no mi sono sbagliata allora stai mi sto sbagliando scusate ci l'ho fatta sono riuscita e tra poco potrò prendere anche questo sottosella bello mi piace un botto cioè guardate troppo bello poi anche raro questo qua ok sembra una colonna spinale vista così bella mi piace presa andiamo a vedere perché mi sbaglio sempre bello bello sinceramente davvero bello mi piace un sacco e nada poi cercherò di prendere anche qualcosa per l'altro bello mi piace un sacco e nada ma ciao